Sono Giuseppe Conte. Quest'estate, con il nuovo Decreto, potranno lavorare solo le tribute band, ma di chi? E questa volta lo devo dire, devo fare il nome e il cognome, le tribute band di Andrea Boscelli, in modo che tutte le mie bimbe potranno cantare sotto al palco, con te partirò, con te partirò, con te partirò. Grazie, scusate. In una terrena da 18 cm e poi infornare per 21 minuti e 14 secondi alla temperatura di 147 gradi. In questo modo, accendendo il forno a 147 gradi, tra l'altro il virus subirà uno shock molto particolare che lo farà debellare del tutto. E quindi noi avremo due importanti vantaggi e benefici. Il primo è quello di aver debellato il virus. Il secondo è quello di avere i pasticcini. Buona giornata a tutti. Carissimi amici italiani, sono il vostro Giuseppe Conte. E' agghiacciante quello che dicono, agghiacciante. E scusate, sono stato posseduto da mio fratello Antonio Conte, che all'Enalinter lo conoscerete sicuramente tutti. Ebbene, sono qui per un decreto fondamentale, il decreto aiuta artisti. Aiutiamo gli artisti e lo faremo in maniera così concreta. Ritornerete a fare musica e eventi dal vivo insieme a Comitato, che ha appena vomitato, insieme a loro in una fase prossima, la fase 85.